Qual è l'arma del pastore? Vediamo se lo sai. Antico Testamento, Salmo XXIII. Se dovessi camminare in una valle oscura non temerei alcun male. Parla del pastore e dell'arma che si portava appresso. Modello Gerico, 9-4-UFBL. Ma che cavolo stai dicendo, imbecille? Ma quale sarebbe allora? Dimmelo tu. È ovvio, questa. Non dire stronzate, era un ebreo, no? Avrà avuto certamente roba israeliana. Non osare contraddirmi, scimmia demente. Che caldo! Se sapevo che anche tu avevi l'aria condizionata rotta, me ne restavo a casa. La barca è al porto, che sfiga! Lo so che fa caldo, non serve che me lo ripeti. Che palle, sembri un jukebox rotto. Piuttosto, Revi, perché non mi racconti un po' del vostro bel marinaretto? Lo sbaglio è con voi da quasi un anno. Ma preferirai non parlarne. Non si toglie mai la sua divisa da colletto bianco del cazzo. Si fa sempre prendere in ostaggio. E in più le sue battute fanno cagare. Che diavolo vuoi che me ne freghi di queste cazzate? Quello che mi interessa è sapere se te lo sei fatto o no. E dai, dai! Potresti anche dirmelo, no? Che caldo!